I got no rules, I count them E' dovuto più all'assenza di Brozovic e alla sensazione di essere un po' fragile in mezzo con Borca che è più compassato o se per metterti a specchio con loro? Perché è sembrato che diversi giocatori siano andati un po' fuori posizione, anche Cansello a fare tutto campo Secondo me chiappa tutto, Cansello è il suo ruolo questo Cansello è comodissimo, a noi si è sbagliato i primi dieci minuti dove Gasperini da vecchia Volpe Qual è? Ha preso e ha messo il Papu largo a sinistra cercando di tenerci la difesa 5 bassa con tre attaccanti di modo che poi ci schiacciavano perché avevano due uomini sulla metà campo Ci si è messo un po' di tempo a mandare poi Cansello davanti e Scrinieri a scivolare sulla posizione di quarto di destra Poi dopo aver fatto questo abbiamo avuto difficoltà ma non da un punto di vista fatti Abbiamo avuto difficoltà da un punto di vista di aggressività Di saltarti addosso che sono la qualità che loro hanno e che evidenziano contro tutti Poi se però si riesce a gestire una palla sulla tre quarti di giocate un po' veloci, un po' in qualità Poi si aprono delle praterie importanti dove due o tre ce la siamo data bene Due o tre ce la siamo data malissimo e c'era delle possibilità troppo facili per la tecnica che si ha E' chiaro che poi un po' di fatica ce l'hanno fatta fare ma nel secondo tempo meglio Nel secondo tempo abbiamo palleggiato meglio, abbiamo pulito più palloni E secondo me abbiamo fatto anche delle buone cose Abbiamo avuto delle occasioni su questo campo qui Una squadra che crea quelle occasioni che sono capitate a noi anche a loro Perché il Papo all'inizio ha avuto quella palla importante che poteva far gol Ma anche a noi ce ne è capitate tre, quattro, cinque Dove loro non hanno mai subito quasi con nessuno su questo campo qui Per cui c'è da C'è da essere un po' rammaricati per non aver vinto la partita perché miravamo a questo Però ci miravano anche loro e anche per loro era importantissimo per noi un risultato di vittoria A voi stasera vi va bene perché voi riuscite a chiappare tutte e due con questo risultato mezzo e mezzo Male loro, male noi perché tutte e due si doveva vincere Via Campo aperto Non ho capito se però è legato a Brozovic questa difesa 3 All'assenza di Brozovic Perché ha fatto È un passetto che durerà o è una cosa Cioè con Brozovic la facendo Stasera? Dura, dura Come non dura? Certo No, durerà Dipende se ci sono le condizioni A me è sembrato giocato bene e che si possa riproporre e mette a posto tante situazioni Questo ci lascia Perisic più vicino alla porta avversaria Ci lascia Rafinha più vicino ai Cardi alla porta avversaria Poi con i quinti Perché di 4-2-1, di 3-4-3 si parla Sui quinti, giocando 4-2-3-1 4-2-3-1 o ci arrivi Con la punta o ci arrivi con il terzino E sono distanze sempre scalate, sempre importanti E sono poi un mettere in condizione la difesa di essere un po' leggera Quando ci arrivi con il terzino è una scalata lunga E tu tiri troppo basso l'attaccante quando poi tu ci fai tornare l'attaccante I primi dieci minuti dove Cancelo ha fatto il terzino destro E noi sul quinto di sinistra loro ci si doveva tornare poi con Rafinha E quello poi ti mette in difficoltà Per cui il 4-2-3-1 ogni tanto ti fa far quello Che la punta va sul quinto di loro e te lo porta poi troppo basso Dice così, era mamma specchio Cioè loro sono stati più bravi di noi nel primo tempo Noi quando si è riusciti a palleggiare Gli siamo stati a ridosso per entrargli dentro Perché con Ivan soprattutto era lasciato sulla via di mezzo E è andato poi lui Rafinha due o tre volte non ha questa corsa lunga Però gli si era aperto lo spazio per andare dentro nel primo tempo Per portare palla E' stato recuperato perché la distanza è quella lì Sono quei 40 metri lì, 35 metri lì E la sua caratteristica è quella di giocare più nello stretto A campo aperto fa un po' più di fatica Però anche lui si è creata la possibilità di andare ad aiutare Mauro lì davanti Secondo me, però poi io ho sbagliato tante volte Salve mister Ecco, avete raggiunto con questo punto Roma e Lazio A questo punto domani si augura che vinca una delle due Io sono tranquillo Domani io ho giocato, domani io devo fare un bel allenamento con i miei E guardo le partite perché mi interessa il calcio Cerco di capire qualche cosa di più Perché capisco poco da quelli più bravi di me Poi auguratevelo voi Io ormai l'ho superata quello di guffare gli altri E di andare ad essere invidioso per altre situazioni Se vinca tutte e due, vinca tutte e due Ci sono tre punti davanti Se noi sono bravi tutte e due Sono riusciti a fare due vittorie contemporaneamente nella stessa partita La guardo Buonasera Spalletti Le volevo chiedere una cosa sulla prestazione di Cardi Mi è sembrato una prestazione a due facce Un po' come l'Inter Il primo tempo poco partecipativo Mentre nel secondo qualche tocco in più Anche se alla fine partita se ne sono contati 20 Che sono 5 in meno di Eder che ha giocato 20 minuti C'è qualcosa di più dietro la crisi di gol? Insomma 1,1 1,2 1,827 2,326 2,5 3,7 3,8 Nel primo tempo c'è da venire incontro a prendere la palla sui piedi Perché loro ti schiacciano laggiù E i Cardi Per ritagliarsi lo spazio Per poi Riessere dentro l'area di vigore Che è il suo ambiente naturale Bisogna venga a palleggiare A fare fase difensiva A prendere la palla addosso Sporca Perché è un recupero palla Perché loro ti obbligano a far questo E dopo aver palleggiato Sulla metà campo Come è successo nel secondo tempo È venuta a dare la palla a Ivan Che gli era rimessa E si è involato verso la porta Però lui poi Non è quel calciatore a partire da lì Velocissimo Che è veloce Però non che abbia poi La qualità innata in quello È bravo dentro l'area di rigore Ma c'è da palleggiare C'è da portarci La squadra C'è da portarci il gioco Dentro la metà campo avversaria Contro l'Atalanta È difficile fare questo Io ho visto giocare anche contro squadre Che palleggiano E che sono maestri E che dove hanno anche perso Tipo la Sampdoria Hanno perso dalla Sampdoria in casa Però poi Hanno palleggiato poco la Sampdoria Perché questi ti saltano addosso E ti chiudono al limite dell'area Poi è chiaro che nel primo tempo Dovevamo fare qualche cosa di più Però A me la squadra complessivamente A parte i primi dieci minuti Tatticamente è piaciuta Nel primo tempo dovevamo fare Qualcosa di meglio Sotto l'aspetto del palleggio Della pulizia Sul recupero della palla Qualche Qualche giocata più Sensazionale Proprio fatta Di qualità vera E di intuizione Sulla tre quarti Dove si rimaneva Tre contro tre E poi fare gol Perché le palle c'erano capitate Per fare gol Più di loro Grazie Buonasera Buonasera Infortunato ci riesce D'annate lì Destruccion 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 Buonasera